A Trento, in occasione delle festività natalizie, il tradizionale corteo dei cantori della stella. Ce ne parla Massimo Baldi. Li chiamano cantori della stella e sono gli ultimi eredi di una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Mascherati da remagi, con una stella girevole e illuminata, visitano le case nel periodo che va da Natale all'Epifania, cantando melodie natalizie e ricevendo in cambio offerte destinate alle missioni. Qui siamo a Trento, dove gli Stellari, così come vengono chiamati, hanno percorso le vie del centro storico, tracciando sui portoni, come vuole la tradizione, la sigla GMB che ricorda le iniziali dei remagi. Proveniente dall'area germanica, ma documentata in molte altre zone dell'arco alpino, l'antica usanza è sopravvissuta in Trentino nella valle tedescofona del Fersina, ma recentemente è stata riscoperta in tutta la provincia, anche in chiave culturale. Lo storico del concilio Michelangelo Mariani ricorda la presenza dei cantori ancora verso la fine di un incolo prima del declino dovuto a ragioni di tipo religioso.